Pericolosa la Sampdoria, quando siamo sempre dentro il quindicesimo, Palermo 1, Sampdoria 0, Empoli. Molte polemiche proprio in questo momento all'interno del campo del Castellani. Era andato in gol croce al diciottesimo, ma l'arbitro non ha avuto dubbi e ha concesso, aveva concesso inizialmente il fuorigioco, però i giocatori dell'Empoli stanno discutendo ancora in maniera accesa.